Gli allunni del Liceo delle Scienze Umane Paladini di Lucca torneranno nella sede storica del complesso di San Nicolao in centro ad inizio 2024 all'arrientro dalle prossime vacanze natalizie. Per gli studenti dell'Istituto Professionale Civitale invece il rientro nella struttura è stato programmato per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Sono gli obiettivi indicati dalla provincia e concordati con la dirigenza scolastica a seguito di alcuni incontri tecnici dei sopralluoghi sul cantiere aperto nel gennaio 2022. Obiettivi resi noti nel corso di una conferenza stampa con un sopralluogo nell'antico convento di via San Nicolao dove sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza per un intervento il cui quadro economico complessivo ammonta 13,4 milioni di euro. I vantaggi del ritorno nella sede storica saranno innumerevoli perché ovviamente questi cinque anni sono stati molto difficoltosi per il liceo Paladini ma anche per il professionale Civitale. La mancanza di spazi, alle volte le aule piccole, la mancanza di laboratori, poi soprattutto la frammentazione dei vari moduli. Invece qui potremo avere una scuola tutta ubicata nello stesso edificio che creerà sicuramente meno problemi organizzativi. C'è un ritardo, il ritardo è dovuto sia a ritrovamenti archeologici sia alla complessità ovviamente del cantiere stiamo parlando di una struttura che è viva da oltre 700 anni e che quindi presenta alcune complessità ulteriori però quello che va segnalato è che appunto sta procedendo e presto la scuola tornerà nella sua sede originaria completamente rinnovata, bella e soprattutto sicura.